Mi sa che funziona, sì, grazie. Buonasera a tutti, cominciamo con il Consiglio Comunale di oggi, giovedì 27 luglio. Diamo lettura dei presenti, quindi procediamo con l'appello. Grazie a tutti. Stefano Bricchese Giorgio, Scramoncin Chiara, Elisa Un Stefano, Cappelletto Matteo, Tezzotto Giorgia, Parpinel Flavio, Fanton Rita Elisa. Procediamo con l'inno nazionale. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Della maggioranza scelgo Cazzazzi e Brichese dell'opposizione. L'altra volta ho scelto lei, consigliere, questa volta scelgo consigliere Fantone. Allora, il primo punto dell'ordine del giorno riguarda la ratifica della deliberazione 99 del 29 giugno, che ha appunto per oggetto la variazione al bilancio di previsione 23-25. Quindi passo la parola all'assessore Rossetto. Rossetto. Ma che l'importo a carico dell'ente non risultava finanziato, in quanto le aree non sono state cedute e non erano nemmeno individuate. In quanto si trattava di fatto di una posta fittizia che avrebbe utilizzando poi l'avanzo di bilancio nel momento in cui sarebbe divenuto reale il rendiconto 2022. In considerazione del fatto che i termini per l'inizione della gara non erano compatibili con quelli previsti per la variazione del bilancio, si è reso necessario provvedere in via d'urgenza a finanziare i 200.000 euro previsti attraverso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato per tale importo. Dato atto che con la presente variazione permangono gli equilibri di bilancio e rimangono rispettati in via previsionale gli obiettivi finanziari previsti dalle norme in materia di pareggio di bilancio per gli anni 23-25, la Giunta ha deliberato di apportare tale modifica urgente da sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni, quindi quest'oggi. Vole intervenire? Nessuno? Poniamo in votazione il primo punto all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? Il secondo punto all'ordine del giorno riguarda l'emendamento che è stato fatto. È stato presentato dalla lista Civica Livenza per quanto riguarda la variazione di assestamento al bilancio. Io darei la parola al capogruppo Bellizzon che ce lo espone. Grazie. Grazie. Buonasera. Il senso dell'emendamento che abbiamo presentato riguarda il reperimento di alcuni fondi che sono utili per andare a completamento di un lavoro che è quello legato alla realizzazione della nuova scuola Albero Azzurro. Un intervento che è stato finanziato sostanzialmente per quasi più del 90% da fondi derivanti dallo Stato o da altri soggetti diversi dal Comune. All'epoca quando ci si instradò verso questa decisione poi la questione legata all'aumento dei prezzi determinò sostanzialmente un'indicazione di gara molto più stretta di quello che era necessario. diciamo così necessario o era inizialmente preventivato cioè quindi furono alcuni aspetti tra cui quello degli arredi lasciato per un secondo momento quindi quando sostanzialmente si sarebbe maturata la situazione dell'avanzo di bilancio. Poi ovviamente l'elezione che è stata non è anticipata perché ovviamente era assolutamente nelle facoltà del Ministero dell'Interno a convocarla all'interno del periodo in cui poi effettivamente si è svolta. ma diciamo anticipata rispetto a quella che era generalmente l'indicazione degli ultimi anni cioè giugno ha fatto sì che non si sia potuto applicare l'avanzo perché erano già stati indetti i comizi elettorali. di conseguenza quella disposizione non è potuta avvenire proprio perché l'avanzo è rimasto lì. c'è stata l'approvazione del consuntivo del 2022 con il rilievo dell'avanzo maturato ma non è stato applicato. Ora i lavori dovrebbero concludersi da quello che appunto poi sono state le interlocuzioni anche con l'amministrazione in tempo per l'apertura della nuova stagione scolastica e di conseguenza si renderebbe necessario a nostro modo di vedere l'acquisto degli arredi perché la vecchia scuola d'albero azzurro ha una situazione abbastanza variegata di mobilio che ha diciamo caratteristiche un po' disparate per cui c'è qualcosa che ormai è logro qualcosa che non è più a norma qualcosa che diciamo è arrivato dai genitori ma che formalmente non sarebbe a norma con quelle che sono le disposizioni legate insomma al mondo scolastico. Mettendo questo utilizzando questi 35.000 euro e reperendoli dall'avanzo dell'amministrazione libero che ammonta più di 900.000 euro ecco ci pare che tutto sommato l'importo sia abbastanza contenuto e questo possa consentire di avere una scuola nuova con arredi a quel punto completamente omogenei rispetto all'intervento e che eventuali mobilio che dovesse risultare ancora buono potrebbe evidentemente essere recuperato per altre scuole dove magari la situazione dell'arredo necessita e non c'è una tale omogeneità nella fattispecie degli arredi presenti in quei plessi. Per cui sembra abbastanza utile che si faccia un lavoro fatto e finito diciamo così e si consenta un'apertura con un certo standard. Ecco il motivo per cui abbiamo presentato questo emendamento con questa intenzione. Grazie capogruppo Pelizzon, il sindaco chiede la parola. Sì grazie Do lettura della risposta che poi viene messa agli atti insieme anche all'emendamento Rilevo preliminarmente che in data 27 luglio 2023 il gruppo della lista civica Livenza ha depositato presso il protocollo a mezzo posta elettronica certificata l'emendamento al bilancio di assestamento generale prima che si fosse trattato tale argomento presso la competente commissione consigliare. Se i colleghi consiglieri comunali d'opposizione avessero avuto la cortesia di attendere l'esito della commissione consigliare avrebbero appreso così come hanno appreso in tale sede che questa amministrazione ha da un lato l'intenzione di acquistare il mobilio necessario alla nuova sede della scuola dell'infanzia albero azzurro ma dall'altro lato procederà ad acquisti mirati dopo aver valutato quale mobilio possa essere recuperato dalla vecchia sede e quale altro mobilio possa essere riutilizzato da altre strutture scolastiche per esempio vediamo la piaget che ha avuto una riduzione di una classe quindi può essere utilizzato il mobilio anche per la scuola albero azzurro il che non significa che stiamo cercando di arredare il nuovo istituto con pezzi di arredamento obsoleti o non idonei significa solamente che come in ogni famiglia che si trasferisce di abitazione si cerca di riutilizzare il possibile e di acquistare il necessario ecco perché l'emendamento presentato dal vostro gruppo consigliare secondo noi pecca sin dall'origine perché prevede una somma di 35.000 euro che era stata preventivata quale spese per acquisto di immobilia quando eravate in maggioranza ma non l'avete mai concretamente inserita nel relativo capitolo di spesa peraltro e questo lo ritengo importante da sottolineare tale somma si riferiva all'acquisto di immobilio che allora era offerto a quel prezzo in quanto fuori catalogo come avevo anticipato anche in commissione considerato il tempo trascorso bisogna capire se sia ancora disponibile se il prezzo sia quello e se sia necessario acquistare altro immobilio in catalogo o quale sia l'attuale costo l'emendamento presentato perciò non ha lo scopo di fornire così all'amministrazione un suggerimento circa un'azione da prendere in considerazione bensì questo emendamento ha lo scopo di creare un caso politico attorno alla nuova sede della scuola l'infanzia albero azzurro purtroppo per voi il caso politico si smonta da sé sin dalla commissione quando abbiamo data compiuta risposta confermativa circa l'intenzione di acquistare la immobilia pertanto se con l'emendamento presentato lo scopo era quello di stimolare l'amministrazione sul punto va rilevato che l'amministrazione attuale è già sul pezzo preso atto di questo invitiamo il gruppo consigliare alla lista civica livenza a poter ritirare l'emendamento visto la riposta positiva che abbiamo dato in commissione nel caso si ritenga di non ritirarlo questa maggioranza non lo approverà perché sta nelle cose che la immobilia verrà acquistata nei tempi e nei modi opportuni vada a sé quindi che la mozione è pleonastica oltretutto volevo aggiungere anche che dall'emendamento presentato viene citato su un punto dove il modo da completare il lavoro è da avere un edificio nuovo in tutto e per tutto ovviamente rimane salva la facoltà per l'istituto comprensivo di utilizzare in altri plessi quanto di valido recuperato con 35.000 euro permettetemi che non andiamo a rinnovare l'edificio nuovo in tutto e per tutto va acquistato una parte di immobilia che va ad integrazione di quella già presente quindi non è che con 35.000 euro si acquista diciamo così tutto nuovo quindi ecco questa chiediamo poi che venga anche messagliato insieme all'emendamento grazie grazie sindaco allora io lei vuole intervenire? sì prego capogruppo allora non abbiamo mai pensato che si andasse a ad inserire all'interno della nuova albero azzurro qualche pezzo non idoneo o non a norma questo evidentemente non è mai stato la nostra idea né la nostra preoccupazione evidentemente non potrebbe che essere così hai fatto dei ragionamenti rispetto alle somme e rispetto al fatto che vogliate fare una come dire valutazione più stringente di quello che sono le necessità più puntuali rispetto a un'attività di sostituzione più ampia e generale però se mi consente dove sono i fondi cioè questi 35 mila euro se effettivamente sono troppo pochi per andare nella direzione che noi immaginavamo cioè quella di una sostituzione complessiva degli arredi e voi avete invece in mente di acquistare quello che possa esclusivamente servirvi questi 35 mila euro possono essere una base proprio per quello che stavate dicendo perché non mi risulta che ci siano magari nelle pieghe del bilancio non l'ho trovato ma non mi risulta che ci sia un capitolo oggi che consente un acquisto di arredi per delle cifre insomma consistenti o comunque valutabili all'amministrazione ecco il motivo che comunque questo è uno stimolo all'amministrazione perché ovviamente questo consente di avere nel bilancio una cifra che poi voi potete impegnare totalmente o anche parzialmente e di conseguenza ce l'avete diversamente vuol dire che dovete andare in avanzo alla prossima occasione al prossimo consiglio comunale quindi trascorrerà sicuramente dell'altro tempo e questo difficilmente collimerà con i tempi dell'apertura della scuola ecco perché francamente non mi sento di ritirare l'emendamento e quindi metteremo in votazione Il sindaco chiede la parola prego Sì grazie Allora ho puntualizzato perché in questo emendamento viene scritto che vorrevate consegnare in sintesi un edificio nuovo in tutto e per tutto quello che ribadisco è che con 35 mila euro non consegnavate un edificio nuovo in tutto e per tutto perché comunque si acquistava una parte il preventivo che ho visto e che ho trovato che era vostro si acquistava una parte di mobilia dopodiché l'applicazione dell'avanzo andiamo più avanti per delle scelte che dobbiamo fare e ci sarà come già anticipato anche l'impegno di spesa per l'acquisto del mobilio inoltre le tempistiche sono state definite sono ancora in fase di definizione perché sembrava che in tempi fossero molto più lunghi per la consegna della scuola perché parlavamo ci sono state purtroppo degli intoppi da parte del come le avevo anche anticipato in commissione c'è stato un problema per quanto riguardava i seramenti di quell'edificio e quindi i tempi si sono prolungati ce la stanno mettendo tutta stanno facendo il possibile per consegnarla nei tempi previsti però questo lo sappiamo insomma da qualche giorno non è una cosa risaputa anzi stiamo ancora insomma in fase di valutazione ma sicuramente staremo dentro i termini e quindi ribadisco la mobilia c'è verrà fatta una valutazione anche da parte dell'istituto e delle insegnanti e di quello che c'è che è necessario acquistare quello che serve lo acquistiamo e vediamo l'unica cosa oltretutto che voglio ribadire e che l'avevo anche detto in commissione ricordo che questo preventivo è basato su dei prodotti fuori catalogo oggi non abbiamo avuto il tempo di verificare se i prezzi sono ancora quelli ma per quello io le ho detto come mai non li avevate impegnati voi perché effettivamente oggi potremmo trovarci non più 35.000 euro ma per quei stessi prodotti perché non sono più disponibili magari ci troviamo una cifra molto più alta quindi è giusto ribadire questo grazie sindaco quindi poniamo in votazione l'emendamento alla proposta di deliberazione riguardo la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione favorevoli contrari astenuti l'emendamento viene respinto andiamo avanti con il terzo punto che riguarda ok sì scusatemi ero persa la discussione l'emendamento appunto è stato respinto adesso procediamo con la discussione sulla variazione di assestamento che riguarda appunto il bilancio di previsione 23-25 il secondo punto all'ordine del giorno prego assessore Rossetto grazie a seguito della verifica generale dei responsabili di servizio in merito alle proprie voci di entrata e spesa è emersa la necessità di apportare alcune variazioni alle dotazioni di spesa e alle previsioni di entrata al fine di rendere rispondenti le previsioni all'effettivo andamento e a garantire la copertura delle spese a seguito delle variazioni proposte permangono gli equilibri il bilancio permane rispetto del vincolo di pareggio di bilancio e continuano ad essere rispettate le limitazioni alla spesa del personale si precisa che si è proceduto ad integrare lo stanziamento di cassa in ragione delle maggiori entrate e maggiori spese la presente variazione al bilancio di previsione prevede elementi positivi per 473.000 euro dati da maggiori entrate per 378.000 euro e minori uscite per 94.000 euro elementi negativi per 473.000 euro determinati da minori entrate per 257.000 euro e maggiori uscite per 215.000 euro sintesi delle maggiori entrate le maggiori entrate sono determinate da maggiori contributi derivanti dallo Stato come il fondo solidarietà comunale per 97.000 euro questo è un fondo a livello nazionale stato rimpolpato erano previsti 300 milioni di euro ma la finanziaria 2023 ne ha aggiunti 50 o il contributo straordinario per gli enti locali per utenze di energie e gas per 68.000 euro anche in questo caso si trattano di fondi per 350 milioni a livello nazionale previsti con legge di bilancio 2023 altra maggiore entrata rilevante è la previsione fatta sulla base dell'antamento dell'addizionale IRPEF confrontata con lo stesso periodo dello scorso anno ha evidenziato un incremento che stima maggiori entrate da qui a fine anno per 69.000 euro dovuto all'aumento della base imponibile si registrano ulteriori entrate per riscossione o cattiva delle sanzioni al codice della strada per 35.000 euro e del canone unico per 9.000 euro altra maggiore entrata è data dall'incremento del numero di frequentanti dell'asilo sacro cuore sintesi minori entrate le minori entrate principalmente riguardano minori rette incassate per ricovero degli assistiti a carico del comune per decesso di alcuni assistiti per 34.000 euro riduzione della previsione di accertamento di sanzioni al codice della strada per 50.000 euro minore entrata per la riduzione del numero di utilizzatori del trasporto scolastico per 12.000 euro minore entrata per le previsioni di accertamento dei diritti di segreteria sulle concessioni urbanistiche per 10.000 euro minore entrata dei proventi delle mese scolastiche avendo esternalizzato il servizio per 97.000 euro minore entrata relativa al contributo conto energia scambio sul posto per 15.000 euro il saldo tra maggiori e minori entrate è positivo e registra un incoherimento totale di entrate di 121.000 euro maggiori spese le principali spese riguardano le manutenzioni i plessi scolastici sacro cuore piaget de amicis toniolo teatro pascutto per 33.000 euro circa rimborso all'agio il concessionario del servizio di riscossione per 32.000 euro potature sfalci per 30.000 euro illuminazione pubblica 16.000 euro segnaletica stradale 13.000 euro e incremento al fondo di riserva che era stato utilizzato precedentemente per delle potature straordinarie per 15.000 euro le minori spese riguardano il minore accantonamento fondo crediti dubbi esiti e personale ufficio tecnico per 9.000 euro Assessore il consigliere Pellizion vuole intervenire prego grazie sì tanto ringrazio l'assessore lo sento anche per le spiegazioni fornite nella commissione esaustivamente il bilancio scusate la variazione di bilancio che ci troviamo ad analizzare è una variazione ancora molto tecnica molto diciamo fisiologica anche in un certo qual modo non vediamo ancora delle scelte politiche anche perché appunto come è stato detto prima di fatto non viene utilizzato l'avanzo e c'è poco di programmazione ulteriore rispetto a quello che era già stato emerso come ho detto in commissione ribadisco solo un'attenzione particolare a mio avviso sul braccare è una parola un po' brutta ma stare attenti sul GSE perché ogni tanto si piantano e quindi per carità poi quella era una previsione che era stata fatta ovviamente bisogna di esatto è tutto un meccanismo abbastanza complicato però ogni tanto bisogna anche un po' eh sì bisogna anche un po' scuoterli perché non sempre tutto fila liscio correttamente e altre insomma notazioni particolari non ne ho se non quella anche lì di verificare un po' l'IRPEF come poi procede nel senso che in questo momento appunto siamo contenti che ci sia questa variazione perché tendenzialmente vorrebbe dire che o si è allargata la base imponibile o è aumentato il reddito dei sanstinesi sono tutte e due belle notizie o aumentato il numero di lavoratori quindi insomma sono tutte entrambe sono delle belle notizie ecco questo fuori di dubbio quindi però ovviamente sarà opportuno magari monitorarlo per capire un po' anche gli effetti che ci saranno di quelli che potrebbero esserci insomma delle code speriamo di no ma legate insomma a problemi che cominciano ad emergere nel mondo insomma dell'economia ecco per questo motivo insomma in questa serie ci asteniamo questa è una dichiarazione di voto vuole intervenire l'assessore? no? bene allora procediamo con la votazione del secondo punto riguardante la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2023-2025 favorevoli contrari astenuti dichiaro approvato il secondo punto con la maggioranza del consiglio bene procediamo con l'immediata eseguibilità del secondo punto favorevoli contrari astenuti approvato il terzo punto riguarda la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio ridò la parola all'assessore Rossetto è previsto che l'organo consigliare con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno preveda con delibera ad areato del permanere degli equilibri generali di bilancio o in caso di accertamento negativo ad adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità vista la relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio legata alla presente deliberazione realizzata da parte del servizio finanziario dell'ente di concerto con tutti i responsabili di servizio che visto che relativamente alla verifica degli equilibri di bilancio a seguito di un'analisi effettuata sulla situazione finanziaria dal servizio finanziario dell'ente si può retenere con sufficiente attendibilità sulla base dei dati che non risultano situazioni tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri di bilancio e di competenza o di quelli dei residui dato atto che per quanto riguarda la gestione di competenza partendo dalle previsioni attuali e proiettando gli accertamenti e gli impegni al 31-12-23 si può prevedere una situazione di equilibrio per quanto riguarda la gestione dei residui si può supporre invece che eventuali maggiori o minori residui attivi e minori residui passivi presunti di fine esercizio siano tali da non determinare effetti negativi sul risultato complessivo della gestione ritenuto che alla luce di dette verifiche sarà conseguito con un sufficiente grado di certezza un pareggio tra entrate e spese e che il risultato di amministrazione potrà essere preventivato almeno in pareggio e comunque non in disavanzo dato atto che non sussistono ulteriori cause straordinarie che inficciano realizzarsi degli equilibri in precedenza riferiti deliberiamo di ottemperare gli edempimenti prescritti mediante l'approvazione del presente provvedimento di prendere atto che la detta analisi condotta sia sulla gestione di competenza che su quella dei residui non si provvede un disavanzo di amministrazione o di gestione di dare atto che le proiezioni nei prossimi anni delle entrate correnti è in grado di dare copertura alla proiezione delle spese a corrente grazie assessore rossetto pongo in votazione no scusa non l'avevo vista prego capogruppo Pellizzone di solito con una certa luce del genere dovrei essere visibile effettivamente riflette di luce propria e in effetti c'è l'effetto abbagliamento grazie assessore grazie assessore fortunatamente si è messo l'acqua questa sera perché è stato particolarmente impegnato come punti all'ordine del giorno la battuta parte allora il punto all'ordine del giorno dà una ricognizione appunto su quello che è l'andamento diciamo dell'ente dal punto di vista del bilancio finanziario e quello che ne emerge è una una gestione in ordine una gestione sana una gestione che per gran parte anche ha riflesso di quello che è stato della precedente amministrazione quindi questo non possiamo che diciamo condividere la contentezza che tutto vada bene e che tutto sommato evidentemente abbiamo lasciato un bilancio che nonostante qualcuno dica diversamente è un bilancio sano e che sta in piedi grazie a lei capogruppo qualcun altro chiede di intervenire l'assessore Rossetto visto che visto che ormai ormai ci hai preso gusto approfitto ormai il punto all'ordine del giorno per fare alcune precisazioni ma allora come ben sapete l'avanzo libero di bilancio del 2022 quel famoso milione 176 sentito più volte nominare in questa sala non è realmente un milione 176 perché come abbiamo appena visto al punto precedente è stato utilizzato per finanziare un'opera la mensa deliberata dall'amministrazione precedente finanziandola temporaneamente con delle entrate potenziali consapevoli che poi si sarebbe utilizzato all'avanzo di amministrazione una volta approvato il rendiconto 2022 quindi come ci avete detto qui più volte ci avete lasciato delle opere già finanziate tra cui la mensa con un avanzo di un milione 176 ma sapevate che i 200 mila euro li stavate contando due volte di fatto perché la cessione di terreni era solo una posta fittizia per permettere successivamente l'applicazione dell'avanzo tralasciando anche questo passaggio quel famoso milione 176 che ora è diventato che questa sera è diventato 976 mila euro nella realtà saremmo costretti probabilmente ad utilizzarlo per anche adesso faremo le valutazioni del caso ma per degli interventi che sono iniziati ma che in realtà non sono completi ipoteticamente il parco esterno della scuola della salute non è stato neanche progettato l'arredamento della scuola come si parlava al punto precedente il piano superiore della mensa di Corbollone se mai dovessimo finirlo ci vogliono altri 250 mila euro per poterlo terminare la copertura dei tiranti all'interno del palazzetto Marta Russo perché sul progetto finanziato non sono coperti abbiamo dei tiranti all'interno della palestra e quindi i ragazzi che sfruttano la palestra ci vanno addosso non possiamo lasciarli così quindi anche là dovremmo metterci ulteriori risorse vogliamo dire anche non so Corso del Popolo è lasciato un po' così un po' con le pezze asfalto un po' buttato là non è stato previsto niente quindi sia un avanzo libero nella forma ma in parte è già bloccato nel concreto se vogliamo portare a termine alcune opere detto questo quel famoso 1.176.000 poi passato a 976.000 euro che si ridurrà probabilmente ancora per completare alcune opere già iniziate non può essere utilizzato un po' così cash come ho sentito dire più di qualche volta il tuo ci mette dei paletti ben precisi ed una scala gerarchica indefinita per il suo utilizzo questo avanzo come ben sapete non si può utilizzare per sfalciare l'erba o per portare alberi visto anche il particolare momento climatico che ci sta mettendo un po' in difficoltà o per assumere personale per coprire ben conosciute carenze di organico o non possiamo utilizzarlo per manutenzioni ordinarie degli stabili di cui alcuni interventi già fatti dalla precedente amministrazione questa non vuole essere una critica ma una precisazione che era dovreso fare per non generare confusione o false aspettative perché se no sembra che con questo 1.176.000 che ci avete lasciato possiamo fare chissà che cosa ma non è proprio così bisogna fare delle dovute precisazioni certamente abbiamo un avanzo ed è positivo ma le difficoltà principali sono nelle spese correnti di tutti i giorni se vogliamo estremizzare è come se un'azienda potesse costruire un capannone ma non ha la possibilità di pagare le utenze o i dipendenti quindi è chiaro che un'azienda così fa comunque fa fatica sottolineo che delle criticità è oggettivo che vi siano concludendo voglio ribadire che più volte c'è stato detto che c'è stata lasciata un'amministrazione in ordine con progetti già finanziati e con un avanzo importante però era doveroso puntualizzare rispetto ripeto ci sono delle criticità ce la metteremo tutto il nostro possibile per poterle risolvere un passo alla volta una dopo l'altra è vero il fatto che ogni volta che approfondiamo un tema ne nascono altre criticità regolamenti che mancano note della corte dei conti dello scorso anno da noi rilevate ma non prese in considerazione in merito a difficoltà nel recupero crediti oltretutto con un concessionario di riscossione rinnovato solo qualche mese fa e con importanti stralci di crediti fatti negli ultimi bilanci fitti non riscossi e neanche contrattualizzati e quindi sicuramente bisogna stare attenti alla corte dei conti tributi incassati e non dovuti in merito all'IMU solo per fare alcuni esempi scusate se sono stato un po' prolisso ma un chiarimento ci voleva grazie assessore vuole replicare il consigliere Cappelletto prego buonasera a tutti non per replicare ma per fare due o tre considerazioni che penso siano utili partendo da due presupposti uno il fatto che il bilancio sia in ordine è una cosa positiva ma io lo dico forse contro i miei o i nostri interessi penso sia quasi doveroso ovviamente che sia o non lo si aspetta anche dalla Cassapeota quale da 20 euro a settimana figurarsi da chi amministra l'interesse pubblico o la comunità la seconda considerazione è che il fatto che se si muove una cosa se ne escono altri quattro con problemi è la quotidianità se no sarebbe molto più semplice come ho detto tante volte basterebbe un commissario oppure a candidarsi a fare il sindaco a fare l'amministratore ci sarebbero decine di persone invece questo non succede proprio perché le cose sono molto più complicate di come possono sembrare ci tengo a pregiare che giustamente si chiama programmazione il fatto di valutare le possibili risorse da utilizzare quindi a volte proprio perché insomma lo vedrete e lo vedremo nella presentazione che farete quando approveremo il bilancio di previsione e lo vedrete anche queste settimane molti dei finanziamenti che arrivano agli enti pubblici sono legati al fatto che hanno dei punteggi superiori o sono legati al fatto che le opere pubbliche siano nel piano triennale delle opere pubbliche e un'opera per essere nel piano delle opere pubbliche deve avere delle fonti di finanziamento e quindi le scelte sono due o uno non mette l'opera e non partecipa o partecipa con meno possibilità a quel bando oppure ci partecipa mettendo a finanziarla una parte che magari è dovuta al contributo potenziale dovuta alla possibilità di accendere un mutuo così è già stato fatto anche in altre occasioni anzi precedentemente una parte del finanziamento della scuola di Corbolone era finanziato con l'accensione di un mutuo che era previsto per un'altra cosa che poi è stata finanziata per cui ha liberato quella quota di mutui che potevamo fare l'abbiamo messa a copertura per partecipare ai vari bandi quindi questa organizzazione diviene naturale e ha poco di tra virgolette politico o di scelte amministrative ma nasce dal fatto se si vogliono cogliere l'opportunità o meno perché altrimenti se valesse il ragionamento che quei 200 mila prendi 200 di Corbolone ma potrei citarne sicuramente un centinaio per via del popolo sicuramente altri per il completamento dell'area esterna e la salute potrei citarne per i lavori dell'efficientamento al teatro forse per una parte adesso vado a memoria non ho appunti sotto mano perché se noi diciamo quei 200 erano già impegnati si è vero che mi hai lasciato un milione di cui 200 sono già impegnati ma allora dovremmo sommargli anche il resto del finanziamento abbiamo lasciato un milione e mezzo o un milione e due già finanziato cosa che ecco quindi va puntualizzato in entrambi in entrambi in entrambi versanti quindi sicuramente avere un milione di euro di avanzo è un'opportunità sicuramente molte delle opere sicuramente 5-600 mila euro forse anche 6-50 perché poi in molti casi questi interventi che dovete fare per rimpinguare i capitoli previsti è proprio per una questione tecnica rispetto a dei preventivi o delle gare che hanno state fatte sul prezzario regionale che aveva dei prezzi se poi ovviamente i prezzi sono lievitati al 30-40% ovviamente sono cambiate le condizioni per cui se si era previsto per un intervento 200 mila euro poi alla fine costa 300 i 100 di differenza vanno trovati oppure si rinuncia all'intervento in molti casi contemporaneamente si rinuncia anche a fondi che arrivano da altri enti per cui ecco questo tipo di programmazione questo tipo di ragionamento non è che nasce a caso nasce dalle necessità nasce dal fatto che ad esempio in alcuni temi non è così semplice faccio un riferimento a questa questione dei fitti perché sennò non vorrei che chi riguarda il consiglio ma vuol dire che questi avevano gli affitti dei beni dati a qualcuno che non riscuotano gli affitti se io due anni fa o tre anni fa alla dottoressa Prevaldi alla salute avessi chiesto i 300 euro al mese in accordo con l'azienda si è concordato che per un anno o due anni avremmo messo quel pezzo di contributo non facendogli pagare costi per agevolare il fatto che lei arrivasse alla salute probabilmente credo sarebbe stata una polemica molto più grossa se ci fossimo formalizzati su due o tre mila euro di affitti sul nostro bilancio e che avessero magari portato lei a aprire l'ambulatorio solo qui e non lì ma ecco queste sono alcune poi molte volte delle scelte poi c'è stato il covid tutta una serie di situazioni e quindi adesso giustamente era uno dei temi su cui si stava già ragionando sono cose definite anche con gli incarichi che prima erano a tempo determinato poi ci sono sistemate e ho citato questo come esempio perché altrimenti si rischia di passare un'informazione dove si mettono a disposizione i beni o ad esempio la casa del volontariato dove dentro ci sono le associazioni dove c'è tutto un accordo con le associazioni presenti però tenute conto di determinate condizioni che si sono venute a creare nel tempo ovviamente si è tenuto in stand by in attesa che insomma tutte le attività di donazione di servizio di trasporto e quant'altro riprendessero la propria dimensione in modo tale da non ovviamente mettere come si dice le dita al collo o magari mettere in difficoltà le associazioni che magari dovevano limitare la sua attività ecco tanto per dire che queste sono scelte tra virgolette considerazioni che indubbiamente magari a volte è nell'assunzione di responsabilità dell'amministratore pubblico che valuta l'interesse generale prima anche di quello formale perché poi sappiamo che la Corte dei Conti o chi vigila sugli enti poi ovviamente hanno un compito diverso fanno le loro valutazioni ma poi credo che arrivare ad un'approvazione di equilibri allo stato di attivazione dell'attività con una ricognizione con una revisione anche da parte del revisore che di fatto non evidenzia nessuna forzatura o storpiatura o comunque situazioni che vanno evidenziate e annotate credo sia comunque una cosa doverosa ma insomma credo positiva sia per chi ha amministrato sia per chi arriva a amministrare con le mille cose a mettere a posto che ce ne saranno una ogni giorno quando va bene se no sono 3-4 Grazie consigliare Cappelletto per l'intervento chiede la parola al vice sindaco Canali l'assessore lo sento dall'ultimo punto sui fitti qua stiamo parlando non del precedente il covid ma stavamo guardando gli ultimi due anni e penso che negli ultimi due anni qualcosina in più si potesse fare anche per al di là anche perché uno dei due paga quindi almeno per poter diciamo trattare tutti con la stessa maniera io non vado a mettere il dubbio al costo opportunità che avete valutato precedentemente ma negli ultimi due anni penso dato che c'erano fior fior di appunti sul tema che si poteva fare qualcosina in più giusto per dare il giusto nel senso uno paga paga anche l'altro non vedo dato anche perché il comune comunque paga le utenze e quindi mi sembra cosa buona e giusta sul punto invece precedente condivido quello che ha detto il consigliere Capelletto la mia precisazione era dato che più e più volte sento ripetere questo milione 176 da utilizzare come fosse cash così diamoci alla pazza gioia non è così ci sono dei limiti del tuel e ci sono dei limiti dati da interventi che vanno portati a termine appunto grazie prego vice sindaco non vuole intervenire allora la parola al sindaco sì grazie no volevo precisare anch'io sì una cosa la precisazione è proprio dovuta al fatto insomma che io ricordo bene in campagna elettorale quanto è stato ribadito questo avanzo di amministrazione quindi è giusto fare un attimo di chiarezza nel dire attenzione che non è che veniamo qui e possiamo utilizzarli come vogliamo ma d'altra parte sono un po' vincolati poi giustamente il capogruppo Pelizzone prima diceva ci asteniamo a quale è oggi l'assestamento perché non ci sono scelte politiche sì la vedo anche dura fare scelte politiche dove ha capito anche lei che c'è un vincolo comunque perché questo avanzo di amministrazione andrà applicato sotto forma di vincolo se non vogliamo lasciare lì le opere perché penso anche che non è stata citata la via Don Carlo Faccia a Corbolone abbiamo fatto una via nuova e non sono stati previsti i 10.000 euro per completare visto che parliamo di fare ormai che siamo in opera come la scuola nuovo tutto per tutto io direi che non applicare 10.000 euro per fare l'illuminazione nuova e magari dopo intervenire ogni due per tre per andare a sistemare la vecchia insomma ecco sono queste alcune cose e quindi era giusto puntualizzarlo per avere un po' di più chiarezza insomma anche per i cittadini ecco grazie grazie sindaco qualcuno dell'opposizione vuole replicare 10.000 allora era prevista l'illuminazione cioè una serie di lavori prevedevano per esempio l'illuminazione pubblica in via facci prevedevano una serie di altre cose quando si è cominciato a fare i lavori in via facci c'è stato un aumento di costi non indifferente legato allo spostamento se non ricordo male magari il consigliere proprio nero mi può sostenere nella memoria legato allo spostamento delle linee del gas se non ricordo male cioè con un posizionamento tra l'altro altimetrico diverso poi c'era stata tutta una serie di appunto emergenze insomma cose che nascono normalmente poi inconvenienti classici di cantiere quando ci si mette a fare una roba si parte con un preventivo e succede sempre qualcosa quello lì tra l'altro era una patta se non ricordo da 600.000 euro perché era totale aveva dentro tutta una serie di cose una serie di interventi e tutta una serie di imprevisti ha fatto limitare i costi e a quel punto si è dovuto riprogrammare gli interventi per questo è vero poi quindi 10.000 euro non sono stati messi perché anche lì il ragionamento era con l'avanzo li facciamo e poi torniamo al ragionamento di prima non vado a rivangare la cosa che ci siamo detti era solo per questo che volevo esclusivamente sulla questione di via Don Carlo Facci è stata una cosa abbastanza lunga grazie grazie capogruppo se non ci sono altri interventi possiamo procedere alla votazione del terzo punto appunto riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio favorevoli contrari nessuno astenuti nessuno non c'è l'immediata eseguibilità il quarto punto riguarda la modifica dell'allegato a del regolamento comunale inerente al canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali chiede la parola al sindaco prego sì grazie ecco una precisazione veloce questa è la modifica appunto dell'allegato A del regolamento per il canone patrimoniale c'è stato segnalato da parte degli uffici essendo che il regolamento prevede due allegati l'allegato A che è l'elenco delle strade spazi e aree pubbliche classificate in zona 1 e l'allegato B è la perimetrazione su base aereo fotogranometrica della zona 1 è stato evidenziato da parte degli uffici che c'era questa incongruenza e quindi per non diciamo così creare delle interpretazioni sbagliate viene integrato l'allegato A al quale mancava era nella planimetria ma mancava diciamo nella tabella che poi sono le descrizioni delle varie vie mancava proprio il corso del donatore e quindi per non creare appunto interpretazioni o problemi interpretazioni è stato chiesto e quindi deve passare per il consiglio questa integrazione grazie sindaco qualcuno chiede la parola no allora anche qui andiamo avanti con la votazione del quarto punto favorevoli contrari nessuno astenuti nessuno anche qui c'è l'immediata eseguibilità il quinto e ultimo punto dell'ordine del giorno invece riguarda la disciplina delle riprese audiovisive delle appunto sedute del consiglio comunale di Sanstino e la loro diffusione prego sindaco sì grazie questo appunto andiamo ad approvare la disciplina e quindi diciamo così il regolamento per quanto riguarda le riprese audiovisive delle sedute del consiglio che ad oggi non avevano un regolamento ben specifico preciso solo che come avevamo concordato perché diversamente dal testo iniziale sono state richieste delle modifiche in commissione e in particolare i soggetti che possono effettuare e pubblicare le riprese delle sedute del consiglio comunale sono identificati nel seguente tre fatti specie diverse al punto 3 è stato aggiunto che soggetti esterni che agiscono autonomamente quindi organi di informazione previa autorizzazione del presidente del consiglio comunale e nell'articolo 3 la pubblicazione avviene tempestivamente sul sito web istituzionale dell'ente nell'articolo 4 è stato aggiunto il presidente del consiglio comunale è l'autorità competente per le riprese audio video del consiglio comunale e per la relativa diffusione c'è stata una modifica all'articolo 6 per quanto riguarda la registrazione le riprese audio video delle sedute del consiglio comunale dovranno riguardare i componenti del consiglio comunale il segretario comunale il personale dipendente servizio questo è stato aggiunto altri soggetti che intervengono ai lavori dell'adunanza circa gli argomenti scritti all'ordine del giorno potranno essere ripresi fatta salva al loro esplicito diniego da parte al presidente del consiglio comunale quindi se c'è qualcuno che viene a intervenire e non vuole essere ripreso deve preventivamente segnalarlo per quanto riguarda l'articolo 9 per l'archiviazione le registrazioni delle sedute consigliari saranno disponibili online e quindi sono state apportate queste modifiche in merito a quello che era poi la segnalazione del presidente parla del presidente del consiglio perché che sia il sindaco o che il presidente o che ci sia effettivamente il presidente il regolamento insomma viene parlato solo del presidente ma in caso di assenza è direttamente il sindaco grazie grazie sindaco la parola al capogruppo per un ringraziamento sia il sindaco che il vice sindaco che hanno lavorato su queste diciamo su questi punti e sui quali abbiamo trovato diciamo un'intesa per a mio avviso anche migliorarla insomma o chiarire alcuni aspetti peraltro dopo sono andato a leggermi il GDPR in effetti l'articolo 17 dove parla di diritto all'oblio il coma 3 dice che il diritto all'oblio non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione e poi anche laddove c'è un esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento per cui diciamo quello che si diceva rispetto all'opportunità di lasciarli proprio per far godere tutti i cittadini della possibilità di vedere questi consigli comunali è qualcosa di particolarmente importante poi a proposito da questa più imbattuta in realtà non l'avevamo mai visto cioè era una cosa che questo regolamento doveva essere tra le cose da fare in realtà non l'avevamo anche al tecnico perché quindi era ecco perché diciamo ci sono venute fuori diverse cose perché in realtà non l'avevamo mai visto grazie grazie a lei capogruppo poniamo in votazione l'ultimo punto dell'ordine del giorno favorevoli contrari nessuno astenuti nessuno approvato all'unanimità grazie vice sindaco se non c'è altro dichiariamo chiuso il consiglio comunale vi ringrazio buona cena a chi non ha cenato tutti al cinema è vero c'è il cinema questa sera grazie buonasera grazie